Operazione salvezza in quattro mosse. Il Teramo inizierà domani a Bergamo contro l'Albinolef, un ciclo di partite che diranno tanto, forse tutto, sul destino della formazione di Maurizzi. Dopo l'Albinolef infatti turno al Bonolis contro la Virtus Verona e poi due trasferte con Gian Arminio e Renate. Tutte squadre che sono alle spalle dei biancorossi ma che hanno lo stesso obiettivo, salvarsi. Teramo dunque avvisato. Per la salvezza diretta bisognerà strappare quanti più punti possibili a cominciare domani da Bergamo. Mirko Spighi la vede così. Io credo che abbiamo quattro partite importanti e difficili perché poi dopo analizziamo e giochiamo uno in casa e tre in trasferta. Se guardiamo l'andata abbiamo fatti pochi punti in queste quattro partite. Adesso non mi ricordo, penso solo due. Credo che dobbiamo per forza di cosa invertire questo trend perché se no poi dopo il nostro percorso passa da queste quattro partite. Credo che l'Albinolef sia una squadra importante ma anche noi poi ci siamo rinforzati i giornali. Penso tutte le squadre. Il giornale B credo che sia quello più importante. Maurizzi ha una certezza il rientro di Caidi in difesa dopo la squalifica ma ha il dubbio del sistema di gioco. Nel corso dell'ultimo allenamento infatti ha provato un Teramo a versione 3-5-1-1 con De Grazia alle spalle di Infantino, unica punta. Potrebbe essere l'alternativa al consueto 3-5-2, in questo caso con Sparacello in tandem con Infantino. Per il resto difesa 3 con Fiordaliso, Caidi, Polak, centrocampo con Ventola e Celli sulle fasce, in mezzo Spighi, Proietti e Spinozzi e poi, come detto, la versione con il trequartista oppure a due putte. L'Albinolef è in serie positiva da quattro gare e non subisce reti da tre partite. La squadra di Marcolini, che insegue il Teramo a due lunghezze, ritrova in mediana Romizzi ma deve fare a meno degli infortunati Agnello, Ex L'Aquila e Pacciardi.